L'enorme cifra di 26 mila miliardi di dollari al 2030 riguarderebbe il risparmio per tutta la popolazione mondiale in caso di sviluppo sostenibile di tutti i paesi. Quindi rinunciare a utilizzare fonti fossili e puntare su fonti rinnovabili avrebbe molti vantaggi economici, non molti svantaggi e costi come sostengono alcuni. La provocazione arriva direttamente dal report 2018 della Global Commission on the Economy and Climate, la commissione creata nel 2013 per esaminare come la comunità internazionale potrebbe raggiungere gli obiettivi di sviluppo senza causare impatti negativi sul clima. Due imperativi, contrastare subito i danni climatici e sfruttare le tecnologie sostenibili La maggior parte delle analisi costo-rendimento, sottolineano come sia meglio mantenere lo status quo perché le spese per passare a economie sostenibili nel breve medio periodo sembrano alte e perché, al momento, i prezzi di carburante, cibo e materiali non riflettono ancora i danni ambientali che stiamo causando al nostro pianeta. Ci sono però due forti driver di scelta che rendono più semplice la decisione per il futuro. Da un lato gli ampi danni climatici sono ormai sotto gli occhi di tutti a causa dell'indiscriminata industrializzazione dell'uomo. Dall'altro lato appare ormai chiaro che le tecnologie e le pratiche sostenibili, un esempio su tutti i pannelli solari o gli impianti eolici, sono diventate convenienti, soprattutto nel settore energetico. Il tempo sta scadendo, il 2030 sarà l'anno della verità. Il report ha analizzato 5 differenti settori, energia, centri urbani, cibo e sfruttamento del terreno, risorse idriche e industria, innovazione virgola barra trasporti. Passare a tecnologie sostenibili permetterebbe di risparmiare migliaia di miliardi di dollari da qui al 2030, migliorando la produttività e la spinta innovativa, ma al tempo stesso riducendo i costi per la salute delle persone. Le tempistiche sono molto semplici, se l'umanità non inverte la rotta in termini di vero sviluppo sostenibile entro il 2030, limitare il surriscaldamento globale a solo 2 gradi sarà impossibile. C'è poi il tema del boom delle infrastrutture che entra in questo ragionamento. Entro il 2030 le stime parlano di oltre 90 mila miliardi di dollari di investimenti per migliorare o creare le reti di infrastrutture del primo, del secondo e del terzo mondo. Se la scelta sarà per la sostenibilità avremo un pianeta più pulito e sano, altrimenti gli impatti saranno devastanti. Infine, le crescenti smart city permetteranno di risparmiare 17 mila miliardi di dollari entro il 2050, migliorando la possibilità di accedere a lavoro e abitazioni. Manca ancora l'ultimo tassello del puzzle, la politica le tecnologie ci sono, il mercato c'è, i risparmi per tutti noi anche, ma manca ancora la cosa più importante, l'impegno e la volontà politica. Serve un cambio di passo di economisti, decision maker, politici, leader. Ciò che manca è proprio la leadership a livello internazionale, che permetta ai capi di Stato di cooperare per un benessere condiviso nel medio-lungo termine. La scelta è solo nostra. Il presente materiale di marketing è emesso da PICT e Asset Management, Europe, S.A. Esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, presidenza o ubicazione in qualsiasi località, Stato, Paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.pict.e, o in forma cartacea presso PICT e Asset Management, Europe, SA, 6b, Rudufort-Niedergrenod, L2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente. Di centralizzazione del fondo. Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun Paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni di investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui e su www.assetmanagement.pict.e nella sezione Risorse a piedi pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICT e Asset Management, Europe, S.A., che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo Paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. La società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne la proprietà tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare quanto diminuire e vi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso, nei limiti del prospetto del fondo. Gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICT è nella sezione Risorse a piedi pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICT e Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICT e Asset Management. PICT non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICT unicamente per finalità illustrative. PICT è stato un gruppo PICT. PICT è stato un gruppo di investimento, l'autorizzazione per valutare i marchi commerciali, per valutare i marchi commerciali, i livelli che non hanno bisogno di investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o servizio offerto o servizio offerto o servizio offerto da PICT. Grazie a tutti